bene ritrovati da fabio sinatti e moreno sinatti e qui siamo a montevarchi in occasione del trofeo sironoferi una delle manifestazioni ormai anche più collaudate più antiche di la provincia di arezzo moreno fra l'altro anche quest'anno sempre molto partecipato nonostante le concomitanze con altre manifestazioni c'è da dire adesso trovare una domenica libera non è facile quindi bisogna adattarsi alla nostra gara che venga più gente possibile però ecco anche qui c'è stata tanta gente il tempo bellissimo la gara è una gara un po impegnativa impegnativa sì perché la partenza è tutta tutta in pianura i primi quattro chilometri diciamo pianura poi dopo sarà facendo si sale caposelvi caposelvi che forse è diciamo un pochino il crocevia un po di tutta la manifestazione nel senso che se uno supera bene caposelvi poi dopo abbastanza favore al percorso anche se gli ultimi due chilometri e mezzo diciamo anche dopo dopo la discesa proprio che sta che ci sono chilometri e sono abbastanza diciamo sostenute le partecipazioni ma soprattutto anche molti appassionati qui fra l'altro c'era la corsa anche a quattro zampe quindi una un aspetto anche collaterale che ha coinvolto una cinquantina 60 diciamo cani insieme ai propri padroni e altri che hanno voluto fare una gara un pochino diversa è in modo una cosa in più per portare più gente a chi lo trova chiaramente maggiore scappotaggio per cercare di di dare diciamo vitalità ogni competizione no effettivamente fa piacere quando organizzi che ci sia movimento movimento quindi tutti cercano scappate per cercare di portare più a proprio murino si dice sempre così no quindi quindi va bene così no anche perché prima sai c'era una manifestazione l'arco diciamo di una settimana dieci giorni c'era una manifestazione sola quindi si concentravano tutti su quella adesso diciamo specialmente in questa settimana qui c'erano quattro no la settimana successiva insomma c'erano ben quattro gare nello spazio da domenica domenica anzi cinque gare cinque gare addirittura quindi insomma pensare che uno possa anche realizzare tutti diventa un problema poi c'è una cosa fa piacere che siano molte gare però ecco perché vuol dire che è una cosa che tira però c'è c'è la divisione dei beni qui dopo insomma se ci sono molte gare e qualcuno è deciso andare di qua di là di qua di là e certo fa delle scelte diciamo egoistiche fra virgolette al di là della manifestazione stessa qui intanto vediamo mi dare insieme anche a dibra uno dei diciamo i due dei protagonisti iniziali di questa competizione dibra fra l'altro è un atleta albanese ma che sta andando molto forte anche a livello nazionale per quanto riguarda diciamo le distanze più lunghe di brandi è tesserato volte basse gruppo sportivo il fiorino come fida quindi fa insomma è assoluto e amatore volendo è un amatore perché ha superato i 40 anni quindi non non può più fare penso non ha più chance di verità di fare grossi risultati però ecco è un bell'atleta no no ancora sempre sta diciamo ottenendo sempre dei buoni risultati almeno per quanto riguarda la nostra ciazza diciamo così locale o semilocale insomma ecco intanto vediamo proprio qui il lungo serpentone dei concorrenti che c'erano in seconda anni Ettore che quest'anno ha dominato la città è andato veramente forte ma anche mazzarelli che è sempre presente un po nelle competizioni la categoria veterani è diventata una categoria quasi impossibile perché qui se ti rilassi un attimino ci sono dietro che sono già tutti pronti per poter è molto qui c'è quasi sempre il vincitore prima di partire però è molto incerta quindi se sgarri un attimino ti vengono addosso certo certo e a livello femminile ecco diciamo che qui abbiamo avuto inizialmente c'era questa atleta di Firenze che si era la chiara montilaura sembrava che avesse preso un po direttamente il sopravvento poi invece abbiamo visto scarcelli alle sue spalle un pochino più giovane rispetto alla precedente concorrente ma insomma scarcelli non più giovanissima però sempre molto agguerrita poi questi percorsi con queste salite non male poi qui vediamo intanto vediamo Scioli e l'atleta era Volpi insieme a Scioli e gli atleti senesi che ormai quest'anno hanno seguito costantemente il circuito del Grand Prix poi abbiamo visto la canuta ecco qui intanto stiamo risalendo verso quella località che dicevamo prima quella ancora qui è un po' lontano vediamo Peluzzi poi vediamo Liberatori abbiamo visto Gennaio e Sanarelli ecco via via si sta risalendo verso le diciamo la zona di Caposelvi zona limite ecco qui intanto vediamo la il raggiungimento diciamo di di Canuto nei confronti di Lachi Roberto e qui vediamo il Chiaramonte ancora che a qualche metro ma la vediamo subito con il piatto non la conoscevo questa questa signora penso sia una signora però ecco vedendo fisicamente non l'avresti dato anche anche del 1978 quindi tutto sommato non è che sia una particolarmente è pigione della scarse addirittura addirittura sì però forse le immagini distorgono un pochino ecco qui stiamo risalendo avevamo visto Maggi poi piano piano Stefano Sinatti che fra l'altro questo percorso non si gli addice insieme a serbe le campani anche altro atleta che sta sta andando forte perché è costante è costante nel circuito del gran primo ma è costante una presa come come fissa diciamo così fra virgolette Fischerè Fischerà anche lui in perterrito fa tutte le gare quindi e Cristian Taras atleta di casa che lo scorso anno vinse questa competizione quest'anno qui siamo qui è già la salita ecco qui siamo già in salita la selezione è avvenuta qui vediamo stranamente un Graziano Emanuele grintosissimo ma l'abbiamo visto poi anche nelle gare successive veramente comportarsi molto bene sicuramente questa non era adatta a lui questa gara perché lui è più sul piano veloce è una garettina più breve però sta cercando un 10.000 proprio per poter fare un tempo importante e qui mi dà Risham che Sorgnone Sorgnone lui la sua gara la fa sempre qui siamo al culmine della salita quasi eh sì vediamo Graziani poi Dibra che perde qualche metro nei confronti di Graziani addirittura Graziani va attacco in salita quindi vuol dire che sta molto bene Tartaglini un altro grintosissimo atleta che non demorte mai fino in fondo è sempre fino in fondo da tutto fino a fondo poi Vannuccini ecco qui insieme a Fatichenti molto bene Cristian Taras che perde qualche posizione poi dopo avrà la possibilità di recuperare nella fase successiva insomma ecco quindi qui è una zona off limite per molti atleti che però cercano ecco vediamo grazie diciamo ragazzini che peccato domenica scorsa ha dovuto ritirarsi alla corsa del lago di Trasimeno proprio per una contrattura sperando che riprenda perché anche lui lotta per il podio diciamo del Grand Prix quindi ora sono le ultime battute e le ultime gare che ancora ci sono gare importanti che possono determinare veramente variazioni costanti e continue abbiamo visto Basile nel precedente insieme a Mori poi qui i refi poi ecco via via si susseguono un po' i vari compagni qui Ettore Fontani che veramente per terra quest'anno è andato fortissimo ma secondo anche quello che abbiamo potuto constatare con qualche intervista veramente si sente molto bene quest'anno è un'annata ok è un'annata che ci ha detto bene tutto e gli dice bene sempre quindi vuol dire che sta bene e qui vediamo che c'è il superamento della Francesca Scarcelli nei confronti della rivale c'è la Maggi Schicchi ecco che vediamo vediamo che era Monte che ha perso qualche metro ottimo Banelli che in questa posizione però quasi anomala perché abbiamo visto recentemente andare molto meglio chi vediamo invece la Canuto che va molto bene in salita poi riperde in discesa forse anzi addirittura pensavamo che facesse un buon recupero poi sarà costretto a perdere la terza posizione insomma ecco qui abbiamo Monnanni intanto ecco vediamo Benedetti insieme a Orsini che stanno procedendo ai Volpi anche lui non ne lascia uno non ne lascia queste gare hanno preso come punta quest'anno di fare tutte le gare mi sembra hanno partecipato a tutte le gare stanno facendo veramente una cosa importante che vediamo Canuto e Borgogni Borgogni che controlla situazione dell'avversario della moglie insomma ecco poi vediamo casi e la Chiaramonte qui ecco ci stiamo risalendo piano piano insieme a Dimicelli e Banelli le posizioni cominciano un pochino a diciamo a stabilizzarsi almeno in questo falso piano che c'è prima della discesa che porta poi a Montevarchi Pellegrinelli passettino sempre corto però grintoso e qui vediamo la Francesca Scarcelli concentratissima in questo momento qui siamo già in discesa vediamo Campani passetti brevi però intensi vediamo Stefano Sinatti poi ancora ecco qui Refi poi Fontani qui lotta qui chiaramente percorso favorevole per i passisti per coloro che non hanno problemi Basile Salvatore ecco qui c'era Basile nella categoria veterani quindi Basile in questo caso qui un osso duro qui Mori Mattius poi Bernini che è andato direi abbastanza bene considerando diciamo la lunga e poi la lunga andrebbe bene la salita se mai e qui abbiamo Tartaglini altro personaggio che adesso lotta con Cristian Taras e qui la coppia al secondo al terzo posto fra Midar e Graziani no Graziani e Dibra e qui ecco avevano un bel vantaggio anche nei confronti di Tartaglini e Taras e qui siamo anche a Midar quando manca circa un chilometro alla conclusione siamo intorno a Montevarchi andiamo a passo sempre costante ma poi è un vantaggio ormai acquisito interessante quindi non ha non ha problemi per quanto concerne poi la vittoria finale e vediamo all'arrivo vincere questa competizione alle sue spalle Graziani e poi qui c'è la la sorpresa diciamo di questo arrivo un po' anomalo sembra che Graziani ecco che Cristian Taras e poi nel finale proprio Tartaglini supera Cristian Taras e Dibra quindi qui c'è stata un po' una sorpresa da parte anche di Cristian Taras e Tartaglini poi vediamo Vannuccini un'altra seta che sta avendo un periodo particolarmente positivo poi vediamo Fatichenti poi Michelini Falci Bernini che arriva adesso anche lui nei primi dieci assoluti viene ha fatto una bella gara poi Lepore Ragazzini poi Metius abbiamo visto poi Stefano Sinatti ecco qui stanno per arrivare chiaramente un po' alternati questi atleti e adesso ci dovrebbe essere l'arrivo delle prime donne poi le interviste per quanto riguarda alcuni protagonisti di questa compagnia ecco vediamo l'arrivo di Scarcelli Francesca poi dovremmo vedere la seconda classificata che è sempre Chiaramonti eccola qui la vediamo dietro frontane e poi al terzo posto Lachy che ha lasciato C'è a dire che c'è Mazzini che non competitivo però è sempre forte e qui vediamo la Lachy Lachy Roberta che è canuto al quarto posto perde proprio nel finale proprio nella discesa ha detto che effettivamente ha accusato un po' la discesa comunque è andata molto bene ecco qui vediamo la Sanario Nicoletta che invece sta in maniera grintosa determinando la classifica del Grand Prix quindi è in testa poi abbiamo visto anche l'atleta della Subbiano Marro e qui ci sono le premiazioni per quanto riguarda il poggio maschile ecco che vediamo anzi no il poggio i vincitori delle varie categorie della categoria assoluta con Midar poi di Basile e poi l'altro l'atleta della categoria dei metterani degli agenti e poi le società Polisportiva Policiano Polisportiva Polisica del Campino e Subbiano Marro all'inizio della salita diciamo ho iniziato a perdere posizioni infatti quando abbiamo iniziato a scendere addirittura non trovo posizioni aveva sopravvanzato anche Fatihenti e Vanducini Francesco poi dopo il rifornimento circa 4 anni della fine c'erano alcuni componenti della rinascita mi hanno detto dai Rissa forse mi hanno dato in là, sono partito infatti Vanducini mi ha detto mi hai sorpreso perché in 100 metri mi ne hai pesi 80 e da lì ho fatto un recupero strepitoso su Alessandro l'ho ripreso a tutti i due chilometri e sono arrivato infatti in via Roma con circa 30 metri poi ho fatto la volata alla fine però insomma contentissimo e comunque ho finito la gara in maniera timicosa onestamente non mi aspettavo di vincere sono contentissima, sono partita un po' tranquilla poi avevo buone sensazioni e ho continuato insomma in salita mi sentivo bene all'ultimo anche ho allungato un po' quindi bene è andata benissimo, sono partito dall'inizio e ho cercato di staccare quello che c'era con me l'atleta che c'era con me e finalmente sono andato avanti, continuato a correre, a spingere il meglio e poi è andata bene, sono andato bene in salita, ho corso benissimo la prima gara è anche molto tattica quindi inizia dopo la salita io la salita si deve cercare di farla a risparmio, a cercare di limitare i danni per lo meno uno come me, c'è anche chi è forte attacca in salita, io ho limitato i danni e poi... ti sei rifatto nella discesa nella pianura? più che altro nella pianura, gli ultimi 3 chilometri oggi ho fatto una tattica nuova perché ho provato a ricorrere forte, partenza forte e all'inizio è andata bene, poi sono calato un po', poi mi sono ripresi i miei amici veterani e poi quando sono riuscito a riprendermi loro hanno durato un po' con fatica di me quindi sono riuscito a battere in volata la 37esima edizione, siamo contenti perché insomma 230 arrivati mi sembra sono un buon numero considerando tutte le gare che c'erano a Toscana, c'erano a Siena, c'erano a Firenze e la concorrenza comincia a essere tanta, un buon ordine d'arrivo ha vinto Midar davanti a Graziani e poi c'è stato lo sprint finale Tartaglini, Taras e Libra arrivati insomma nell'ordine tra le donne ha vinto la Scarcelli davanti alla veterana Chiara Monti alla Chiara Monti di Fidenze e Terzi è arrivata la Laki di Robelta un buon ordine d'arrivo, buona qualità e buona quantità Bene, adesso siamo passati invece a una giornata diciamo che la mattina non non dava grandi speranze contemporanei importanti eccetera e invece poi diciamo che nella giornata è andata meglio meno meglio è andata Livorno purtroppo in quella giornata lì c'è stata proprio l'alluvione eccetera ecco quindi per dire quello che è accaduto precedentemente ma qui siamo a Figline Il campeggio di Girasole è un campeggio bellissimo immenso che non finisce mai ecco peccato per la pioggia perché sarebbero molta più partecipazione ci sarebbe stata ma ecco come diceva Fabio prima a Montevarchi aveva allagato una zona quando siamo venuti noi da Arezzo c'è stato un momento che toccava andare in seconda e in terza perché in autostrada non si poteva non si poteva camminare non si poteva niente quindi era pericoloso sì anche troppo alla gente per le condizioni atmosferiche qui eravamo sì sì ecco abbiamo raggiunto la località insomma ecco in condizioni che non pensavamo neanche venissero questi che ci sono ma infatti inizialmente erano certi neanche se fare la gara o no dopo si è aperto un pochino il cielo e la gara è stata fatta ecco qui siamo già un primo preambolo della competizione in una gara che si disputa in un percorso molto impegnativo però direi molto spettacolare te l'hai fatto ma io l'ho fatto in alcuni tratti ma è veramente bello bellissimo non è noioso anche se è faticoso vediamo le salite vediamo anche Alessandro Annetti che è in difficoltà in questa salita ci sono dei tratti bellissimi ecco c'è questo viale che direi forse il percorso più bello veramente spettacolare questi due questo viale con questi cipressi ai lati è veramente fantastico da un'immagine di tranquillità di bellezza stupenda insomma quindi è una gara che probabilmente è da ripetersi per quanto riguarda almeno gli aspetti così logistici con laterali eccetera perché veramente poi è un campeggio fornitissimo attrezzatissimo proprio c'erano tutte le condizioni per perché venisse bene la cosa come all'arrivo c'è stato il pasta party c'era la coca cola c'era il power red c'era proprio anche a livello di rifornimento è stato non c'erano problemi sì e qui vediamo ecco Vannuccini al comando poi Saduni, Tartaglini in terza posizione già la selezione è avvenuta perché questo percorso era inevitabile che ci fosse selezione poi vediamo intanto Refi, Fatichente, Annetti su questo lungo viale qui intanto eravamo intorno al quarto chilometro e qui chiaramente sì già diciamo un tratto che quello impegnativo è stato subito utilizzato nella parte iniziale poi ovviamente ci sarà un altro tratto abbastanza impegnativo però ci sono questi intermezzi diciamo così piacevoli gradevoli anche basati anche sul ritmo quindi tutto sommato non male e qui ecco vediamo che gli atleti si sosseguono in questo lungo viale ovviamente vedete qui poi è abbastanza allungato il gruppo dei partecipanti e qui ecco per quanto riguarda il settore femminile qui avevamo la Barneschi la Barneschi Francesca e poi l'altra atleta della della Futura che era particolarmente diciamo agguerrita c'era una ragazza c'era il 94 quindi mi sembra abbastanza questa qui che vediamo adesso adesso troveremo il nome e comunque c'era da dire che anche qui le donne c'era anche la Sanarelli che sicuramente si adiceva molto a questo percorso perché fisicamente è adatto a la Benedetta chiaramente questa atleta che è andata veramente alla grande ha dato addirittura alla Barneschi Francesca ha dato quasi tre minuti insomma quindi per dire le caratteristiche di questa atleta che fa pista assoluta quindi non diciamo non fa molto spesso però l'abbiamo anche sentita era abbastanza favorevole insomma che mi piace anche queste gare così quindi particolarmente questa poi è una gara di 11 km insomma era è venuta a 10 km e 200 m quindi era impegnativa insomma ecco che vediamo la Barneschi Francesca avete abbastanza era impegnativa solo nella discesa dovevamo stare attenti perché proprio scivolava non si stava in piedi e addirittura qualcuno è arrivato abbastanza diciamo poco pulito ecco tanto per capirsi nel tratto proprio finale intanto vediamo questo tratto invece di asfalto che porta su insomma ecco era un percorso direi particolarmente positivo e buono insomma ecco vediamo anche molti appassionati anche del campeggio hanno gareggiato quindi come non competitivi il campeggio internazionale infatti c'erano persone più che mai olandesi e danesi c'erano quindi molti erano non competitiva che non li vediamo sicuramente li vedremo anche dopo non so se erano inquadrati e no comunque certo è andata bene rispetto alle condizioni atmosferiche in cui eravamo e qui intanto stiamo risalendo un pochino con i vari concorrenti nei tratti in cui era possibile poterli seguire con i mezzi perché alcuni tratti era quasi impossibile poterci andare ma specialmente nella giornata in cui era è stato quello che ha un pochino danneggiato alcune diciamo strategie ecco che erano state un po' predisposte per l'organizzazione qui intanto vediamo Refi insieme Alessandro Annetti ecco vediamo proprio che in questo frangente in questo Saduni atleta marocchino sicuramente di ottimo valore ma qui la concretezza e soprattutto la tenacia di Francesco Vannuccini che ci sembra particolarmente maturato in questi ultimi periodi sta facendo le gare molto più a corte le sta selezionando e sta facendo anche dei risultati importanti quindi questo significa che ha maturato un po' anche l'intelligenza di correre in un certo modo anche lui non è più giovanissimo quindi devi cercare di usare bene le forze 82 e 35 anni quindi ormai se non è capace a correre adesso non si impara mai però quindi sono tutti selezionati diciamo ormai è abbastanza delimitata un po' la classifica anche per quanto riguarda i primi tre assoluti c'è da dire che tanti agli neannetti erano erano reduci da sera precedente sono tornati in nottata abbiamo campionati italiani diciamo di mezza maratona di 10 km quindi però il viaggio di 5 ore insomma quindi non è che è un viaggio di poco di poco conto partita mattina gareggiato poi ritornati la sera insomma ecco intanto vediamo mazzarelli insieme anche a rosario valentino che predilige un po' questi questi percorsi anche per lui comincia a essere però dura e qui vediamo questa atleta giovanissima la bini benedetta che è del 94 quindi ragazzetta giovane che non va male poi vediamo l'arrivo di francesco vannuccini è andato molto forte l'atleta della Polizia del Campino poi Saduni Mohamed Ali ecco qui al secondo posto distaccato di circa un paio di minuti poi al terzo posto Alessandro Dattaglini staccato invece di 90 secondi da Saduni quindi diciamo che i primi tre sono andati molto forti poi avete sempre molta cortesia fra tutti poi Fatichenti nella volata finale nei confronti di Alessandro Annetti e poi Mirko Reff poi questa arriva è in salita quindi si sente dopo aver fatto la discesa la salita prima di quella di Cesino c'è la salita e prima ancora c'è una discesa asfaltata mentre prima c'era quella che deve stare attento a non cadere qui vediamo l'arrivo di Stefano Fani poi Giacomo Mazzarelli poi arriva con la prima donna intanto Bini Benedetta giunge dal traguardo addirittura con 45.03 il tempo poi vediamo qui intanto Lazzerini poi Schicchi nel fondo ecco fra non molto dovrebbero arrivare anche le altre atlete del settore femminile ecco vediamo intanto Casio Alessio diciamo che è uno dei pochi che ha fatto tutte le gare ha fatto e poi Stefano Sinatti che non è andato male considerando il percorso con queste caratteristiche intanto vediamo anche la Francesca Barneschi giungere a conclusione siamo a Bonnanni esatto sì e a Campani poi vediamo l'arrivo anche dell'altra ecco Parini Elisa della Polisportiva Oltrarno e poi vediamo ecco l'altra ragazzina invece ecco abbiamo visto sì Sannele Nicoletta in precedenza che è sfuggita e poi niente ci sono le potenze dei ragazzi era Peruzzi Magdalena Peruzzi Magdalena sì intanto vediamo ecco un gruppo di ragazzini quelli che sono riusciti ad arrivare lì a a Figline perché effettivamente intanto la Capostibi della Asia dei Gattini che è in testa al Grand Prix del Centro Giovanni non ne lascia una quindi è sempre presente alle competizioni e qui intanto vediamo anche i ragazzi che ovviamente hanno fatto un percorso un pochino più breve ma comunque impegnativo perché poi anche all'interno del campeggio c'erano salite e discese ci sarebbe lo spazio per fare anche nel campeggio la gara ma diventerebbe tremenda sì 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 cioè è grandissimo il campeggio sali scendi sali scendi sali scendi fra l'altro ricordiamo che il ricavato di queste iscrizioni della della gara erano per il Maier e per anche il Calcit del Valdarno Fiorentino ecco prima i primi due protagonisti che hanno ricevuto fra l'altro un televisore a testa e un bono e un bono di 5 4 5 giorni 3 notti e 4 giorni e qui siamo passati il martedì quindi la domenica San Giovanni Valdarno qui siamo a martedì e siamo alla Mennea Day quindi una gara di 200 metri inizialmente quelli più piccoli hanno fatto una partenza unica dalla ferrovia di Pescaiola fino ad arrivare al negozio record sono anche qui e qui vediamo ecco l'arrivo dei più piccoli vedete guarda che scena anche questi arrivo di questi bambini e poi quelli più grandi qui vediamo gennaio addirittura che va a vincere una gara di 200 metri abbiamo fatto le corsie con Monnanni poi con Nicolai vedete un po' ecco e poi con Cioncolini questi atleti che hanno hanno voluto diciamo essere anche loro protagonisti di El Mennea quindi far vedere i propri 200 metri poi ci sono invece gli atleti a livello anche femminile che sono andati molto forti quelli da Fili Run poi ci sono San Giovanni Nicoletta in questo caso qui e per quanto riguarda invece quelli più forti la Mazzini Rosa ecco tra noi abbiamo anche Sassi Antonella sì ecco e qui vediamo ecco l'arrivo ancora di atleti che però direi una novità positiva Moreno sarebbe da ripetere queste effettivamente non è venuta male farla in un punto dove c'è più luce e qui vediamo anche il Dottor Amato vediamo insieme a Orsini vediamo insieme a Menchetti qualcuno ha svegliato la corsia però ecco sono belle sono queste cose che vengono è spettacolare via Roma e via Cristo sicuramente da riguardare per Benino ma insomma ecco è un Mennea Day che può essere ripetuto anche in altre competizioni perché sono quelle gare ecco Quintano Mazzini che va a vincere invece nel settore femminile fra l'altro ottenendo il miglior risultato intorno ai 24 e poi nel settore maschile sempre dell'Alga Etrusca che fa 22,5 ovviamente sono 200 metri fatti in casa diciamo ecco con qualche ragguaglio ovviamente però ecco la spettacolarità sicuramente importante anche per quanto riguarda questa competizione che ecco qua comunque sono belle sono gare che si potrebbero ripetere peccato c'è quella luce in fondo di qualche automobilista che ci danneggiava anche nelle riprese televisive ma insomma ecco però vedete con quale grinta anche i ragazzi perché poi sono abitati in pista questo è un rettilineo di 200 metri lunghissimo si sono venuti anche da Montevarche non è che erano solo di Arezzo è stata una bella esperienza direi anche da ripetere perché poi è l'atletica che va in piazza insomma quindi se riusciamo anche a fare questo tipo di operazione anche mediatica e soprattutto anche promozionale senz'altro può aiutare anche al movimento stesso insomma voglio dire vediamo anche i giovani ecco che si sono cimentati tutti su questi famosi 200 metri che per alcuni diventavano lunghissimi eh insomma abbiamo visto tipo bambine come la Clara Severi che ha fatto 200 metri ma del 2015 voglio dire ha fatto ma è ancora e voleva correre ancora quindi cioè per far capire che la voglia la volontà di correre c'è stata e poi lo spettacolo direi che è venuto fuori successivamente anche con con la gara in circuito una gara che effettivamente quasi 150 partecipanti con molti non competitivi è andata è andata benissimo questo è stato un bello spettacolo è piaciuta tantissimo il brutto di queste gare è un po' troppo corto il circuito quindi ci sono le doppiaci quindi quando ci sono le doppiaci non è però è la portata di tutti quindi ti permette nel centro di Arezzo che è andato fortissimo Emanuele Graziani che veramente ha messo tutti in fila facendo un ritmo sostenuto insieme a Tartaglini e Alessandro Annetti che hanno seguito però ecco direi direi che veramente lo spettacolo su questa competizione è stato alto è stato insomma ecco quindi a detta di tutti è stata una cosettina da ripetere anche questa come si diceva sono quelle manifestazioni che sommato diciamo sono spettacolari però impegnano perché devi chiudere il traffico devi fare tutto con una serie a percorso escluso questo tratto qui che via benedetto croce l'altra era interno via Andromeda il problema è chiudere la strada questa e alla sera alle 9 non è poi molto difficoltoso perché non c'è molto traffico che poi si può deviare però ecco insomma stanno sempre l'impegno il problema era sempre che non c'erano neanche i vigili e è un problema che è toccato curarlo tutto dall'organizzazione e ci sono un po' di normative che sono cambiate anche sotto questo aspetto qui quindi chiaramente anche per organizzare manifestazioni diventerà sempre più difficoltoso e qui ecco come dicevamo una gara di circa 6 km quindi metro più metro meno 19.07 per quanto riguarda Emanuele Graziani che ha vinto davanti a Alessandro Annetti 19.23 quindi insomma 20 secondi gli ha preso 19 secondi poi Tartaglini al terzo posto con 19.42 insomma quindi una gara poi Banelli Luca come dicevamo che veramente è diventata una sorpresa perché poi l'abbiamo rivista anche ultimamente ha fatto le belle gare sta andando molto forte sta andando poi Anzano della Polisportiva della Chianina poi Ciambriello Polisportiva Chianciano quindi presenza anche di atleti provenienti da diverse parti martedì sera quindi considerando tutto iscrizione molto contenuta 3 euro di iscrizione che poi una parte è andata alla fondazione Pietro Mennea quindi voglio dire e tutti sono stati diciamo omaggiati di una maglietta insieme a altri prodotti a gadget e poi premi per i primi 10 articoli sportivi era Mizuno in questo caso qui la record è diventata la store della Mizuno insomma ecco tanto per capirsi quindi Megastore della Mizuno che ovviamente è stata presente in questa manifestazione ma qui intanto vediamo anche nella parte interna diciamo quindi nel circuito interno di questo giro da ripersi quattro volte beh dire tutto sommato vedi qualche macchina ma insomma niente di particolare se uno sta attento abbiamo visto che c'è stata molta delle aiutare c'erano anche responsabile gli addetti i volontari dell'Avo i volontari dell'Avo che presidiavano alcuni incroci ovviamente ringraziamo anche per la loro presenza saranno presenti anche in altre occasioni saranno presenti anche il primo ottobre la corsa che ci sarà la centro commerciale Coop ecco quindi dicevamo veramente ecco un aiuto anche da parte di tutti che ovviamente può permettere se poi c'è rispetto anche nei confronti dei automobilisti che hanno capito la filosofia anche della manifestazione quindi hanno avuto pazienza e si può fare tutto insomma io direi che molto spesso ci vuole un po' la soprattutto la cortesia e qui intanto vediamo l'arrivo di Graziano Emanuele che va a vincere questa seconda edizione della Corsa Record Mennea Day e quindi sicuramente un bel risultato grande prova anche per Emanuele e poi anche per Alessandro Annetti quindi e già siamo al martedì quindi abbiamo qualcuno ha gareggiato sabato sera domenica mattina martedì e poi rivedremo un po' poi vediamo Tartaglini e Alessandro al terzo posto ecco qui vediamo gli atleti che si susseguono dalla parte sinistra invece vediamo ecco qui intanto arriviamo Banelli poi arriva Anzano poi Ciambriello ecco via via si susseguono un po' gli arrivi di questa di questa competizione e qui in questa gara la del Bravo Santigliano ecco si poi vediamo Refi Mirko è andato molto forte anche lui poi i ragazzini Giacomo ragazzi qui lotta serratissima perché ogni gara porta punti quindi ognuno deve tenere sempre il ritmo sostenuto vediamo Fontani Ettore che anche ora in questa occasione è andato a vincere la sua categoria poi c'era Scaglia Scaglia arrivato sì Scaglia invece per quanto riguarda la categoria degli Argenti ecco che vediamo Retti poi vediamo Lancillotti ecco vediamo anche la Sanarelli Barbetti diciamo che per quanto riguarda il settore femminile ha vinto la del Bravo Costanza davanti abbiamo detto alla Sanarelli Nicoletta che è andata fortissima direi in questa circostanza qui e al terzo posto Sassi Antonella ecco che intanto vediamo Gennai poi vediamo ancora raggiungere al traguardo vari concorrenti che si susseguono un po' ecco che vediamo anche la Tiberi e siamo passati all'ultima di questa carrellata di manifestazioni la montagna nata una delle manifestazioni anche questa che antichissime poi interrotta poi ripresa era il giovedì era il giorno prima di inizio delle scuole quindi per quanto riguarda il settore giovanile diciamo che c'era molta carezza qui intanto vediamo la la Severi Chiara che vieni qua vieni qua invece l'arrivo era qua e vedete con la forza la voglia di correre da parte di questi bambini questo era scappato una scappa e è ripartito ecco qui vediamo poi arrivo anche di altri ragazzi del settore giovanile come dicevamo non particolarmente numeroso però invece per quanto riguarda il settore degli adulti è stata una gara direi qualitativamente intanto Moreno diciamo che domenica prossima ci sarà Rezzo Abiglia alle 10 del mattino in piazza Parco Pertini una gara di 8 km sono due giri uguali quindi sono un pochino meno dei 10 km che erano stati previsti inizialmente quindi abbiamo fatto due giri e poi il primo di ottobre ci sarà questa corsa COP FI al centro commerciale Ipercop chiamiamolo così che sicuramente sarà un grande spettacolo perché poi andremo al Parco 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 Dulci Parco del Pionta fra l'altro una serie di vagazioni molto spettacolari molto belle poi il sottopasso andremo nella zona di Pescaiola anche che sei molto bella l'abbiamo fatta ieri sera la zona meridiana quindi sicuramente da apprezzare anche come tipo di percorso e poi c'è anche l'anno competitiva organizzata bene l'anno competitiva nel senso che è anche premiata non cosa è gratis è gratis c'è la Run Days quindi chiaramente il centro commerciale ha messo a disposizione diverse opportunità e quindi ci sarà la possibilità l'unica è che la non competitiva è lunga quanto la competitiva quindi saranno 9 km però c'è la possibilità veramente di vedere anche le bellezze che questo percorso offre abbiamo visto la pista ciclabile nuova anche nel Parco del Pionta molto spettacolare e insomma quindi sarà un fine settembre particolarmente scoppiettante ma intanto andiamo a vedere quello che è successo qui a Montagnano gruppo qualitativamente direi molto cotato una gara eh anche qui quattro giri quattro giri abbastanza impegnativi c'è un tratto di salita due tratti di salita una un pochino più impegnativa l'altra un po' meno però è dopo è da correre tutta sul ritmo anche se ci sono molte curve però insomma è una corsa che si fa abbastanza bene eh direi direi che questa gara qui avevamo diciamo dei pezzi importanti come Nivola come Cannucci come Marzi Tartaglini Annetti Paganelli Manelli Ragazzini Frank Ciro Mori Mbarec Ciambriello Caporali Neri e poi vediamo nel settore femminile invece abbiamo visto la Varneschi Francesca anche qui quindi lotta serratissima ma c'è da dire una cosa con la premiazione che c'era mancava qualche qualche atleta perché si vedono molte volte tantissime tante gare con pochi premi e tantissima gente e questa è una premiata era premiatissima quindi cioè molti sono rimasti meravigliati perché si è dato quei premi in quella era sufficiente come partecipazione però ecco con i premi che c'erano sicuramente qualche decina di persone più sarebbe è una serata un pochino particolare come dicevamo forse c'erano anche la concomitanza con alcune iniziative calcistiche forse anche un po' indotto poi gare che c'erano anche nel fine settimana intanto vediamo il terzetto di testa con Nielo, Cannucci e Marzi che allungano un attimino nei confronti di Tartaglini e Annetti che inseguono a pochi metri di distanza ovviamente lotta serratissima poi faticamente Banelli qui li vediamo già i primi doppiati perché già dopo il secondo passaggio c'erano i primi doppiati vediamo anche Tartaglini poi ragazzini e qui lotta serrata sempre a a punteggi perché il Grand Prix nello spazio di cento punti sono in tre insomma fatichenti i ragazzini sono lì quindi se la giocano un pochino quindi ecco vediamo anche Donnini Mbarek un altro giovane atleta emergente insieme a Mori e poi Lachialessio questa volta nella categoria veterana un altro personaggio importante che era partito fortissimo era partito insieme al gruppo di testa insomma ecco quindi c'è da dire che da un punto di vista qualitativo la gara è stata particolarmente diciamo brillante qui vediamo l'arrivo proprio di Attilio Nivola che va a vincere questa prova nettamente dopo diciamo un attacco che è stato sferrato da Cannucci e da Marzi nei decenni precedenti poi alla fine ha rotto gli indugi e Attilio Nivola è partito e è arrivato al traguardo con un vantaggio di 12 secondi su Cannucci e con 16 secondi su Marzi che sono andati sempre comunque forti poi ecco al quarto posto vediamo invece Tartaglini Anneti Anneti Paganelli 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 ecco poi vediamo Fatichenti che ha una bella focata comunque anche Fatichenti poi insieme a Refi controlla sempre Refi eh sì perché c'è quello che che gli sta poi alle calcagne che intanto vediamo anche Mattini giunge dal traguardo ecco vediamo Barneschi che va a vincere il settore femminile davanti alla vincitrice del Meneadei la del Bravo l'altro atleta ecco vediamo anche Sanarelli Barbetti in precedenza poi vediamo Blasi che ha ancora un altro giro poi vediamo ecco Mariottini che arriva sì Mariottini ecco via via si susseguono un po' gli arrivi dei concorrenti in questa di Francesco D'Antonio D'Antonio poi vediamo ancora vediamo c'è la Nicchi ecco vediamo anche Collini via via ecco si susseguono un po' gli arrivi dei vari concorrenti in questa e poi vediamo anche il tuo arrivo insomma abbastanza calmo però un percorso molto nervoso questo sì il percorso non è non è non è annoia è un percorso che devi stare sempre concentrato bene l'appuntamento fra 15 giorni per le prossime trasmissioni di podismo e atletica ciao 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 Grazie a tutti.